la prima puntata vi si può raccontare il mio marito come lo voglio rumparterò ho cantato la cia la puntata non c'era la nonna che la cantava come lo voglio rumparterò ho mandato la cia la puntata non c'era la prima vista era una no che li faccia le corne del marito e poi non stava sempre buona quello marito allora quando c'era l'innamorato quando c'era l'innamorato lo sentivate al marito facciate bene i buoni però lo marito non lo manda a qualche posto insomma perché c'era l'innamorato allora quando c'era l'innamorato insomma non sente il tia da entra a casa che non senti un buonio essa l'innamorato è l'innamorato che ha scomparire un po' con un'occhio io non sapevo com'è fare che mai io com'è che fare se mi sentava giù l'innamorato l'innamorato no Sì, venne lo dottore, no? E venne lo dottore e dice, a me qua si svolgono, ci vuole l'acqua della Chiara Puntana. E gli dice, e come si fa? Si dice, ti tocca lontano. Allora prima c'erano, per esempio, gli incantelli, no? I cristiani, no? Erano i figuri che hanno tornato dai, no? E allora, questi cristiani dice, ma ho pure lontano, basta con la mia figura, no? Per la toglia proprio. E poi, la Chiara Puntana mi insegnava a dire, che eravamo qua, 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 e che eravamo iniziato a camminare, e qui ho camminato tanti giorni, no? All'ultimo, avrei pensato tanto tempo, no? La dice, buon uomo, dove vai? E dice, mia moglie dice, stai male, stai male. Ah, la dice, buon uomo, quelle fatiche tue, tua moglie sta bacchettando a casa, dice, con l'innamorato, cammina, cammina, del seno, non dai retta del seno, dice, no? Dice, allora, mi sono troppo forti, e porta nel caso. Quindi, quando parto, dice, lui, tu mi tenia, per esempio, la campagna, tutto, no? Quando parto, dice, se è vero, metà i certi uomini, se non è vero, io te li dà oggi. Sì. Ha detto, sì, d'accordo. Allora, sono tornati a casa, e Ida, sta cantando, tanti viene e fa mangiare, no? Con l'innamorato. Allora, dice, Ida ha detto, io, ma del seno non lo so. Sarebbe, allo marito, no? San Giuseppe. Dice, io entro con me, fanno la limosina. Allora, tu, 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 chi è? Allora, Ida, sta cantando, sta, erano embriatati, no? E, in allegria, avevo chiesto, a casa sola. E, non c'era appena, a me ha passato, tanto tempo. Dice, mi fate, in animosina. E, dice, ma non abbiamo tempo, qua all'alto, ma, e, dice, sto venendo da lontano, pure io ho fame, dice, farmi qualche cosa, per quello che state mangiando. Ma, dice, vieni qua, e, e, racconti una canzoncina, pure tu. Ha detto, no? Ma, va bene, dice, ve la raccolta, dice, e, dice, non è meglio, dice, che cominci tu, che sei della casa, poi, te la dico io. Eh, va bene, ha detto io. Allora, ha cercato, immagurato, no? Ha detto, sono a casa di Ricco Villano, mangia e bevo dei cavalieri, e, mangia e bevo dei cavalieri, non è il portatore. Insomma, e ne disse la trova sua, no? E io ti ha detto, insomma, tengo marito, tutto ero tutto, come voglio, lombarderò. Infatti, Luca Poicchio, no? Eh, l'ho mandato alla Chiara Fontana, lunga la strada, ma non torna per morire. Ah, tanto tempo quello va alla casa, allora, vedi, dai salu salvo, per via, no? Insomma, quando il gioco, proprio non ci la faceva giù, no? Vedi che, resta il salto, no? E dice le dio, dice, se tu, mi cuore lo faccio, io quattro ti farò, e si muore con il salto, Caccia memori, potenzialo sacco, quanto li sono, lo dota, lo so, e se la suonava quel lombo che col bago di tutti. Quindi, caccia memori, potenzialo sacco? Sì, quanto li sono, lo dota, lo so, e se la suonava quel lombo che col bago di tutti. E io quattro, dite a rubirte, no? Guardi, se ne dava quattro. E io quattro, dite a rubirte, no? Guardi, se la suonava quel lombo che col bago di tutti. E l'unnamorato che c'è? L'unnamorato mi piace. Sono casa del Covellano, mando e bevo dei tavoli. E mamma mia, ho il pane del suo cittaro, bevo il vino, bevo il cantinato, via c'è. Vai, come si via, non vuole. Il pane del suo cittaro, bevo il vino del cantinato. Quindi, com'è tutta la strona? Scusi, ma io ti sento così, no? Poi il mio marito toterò tutto. Come voglio, l'ombarderò. L'ho mandato, la Chiara Fontana, ronga la strada, non torna per me. E io ti sento, e io ti sento, e tu mi ricordo un po'. Io quattro cittaro. Io ho il mio monico dentro allo sacco, quanto ci sono, lo tose tutto.